Cosa siamo noi? E' una domanda che mi faccio da tempo Cosa siamo noi? Che se a pensarci non è poi divertente Che dicono di noi? Che facciamo? Cosa siamo noi? Affezionati ai nostri mille rimandi Cosa siamo noi? Noi che a guardarci siamo già belli e pronti E che aspettiamo noi? Che vogliamo? Cosa siamo noi realtà? Dove siamo unità? Cosa siamo noi da sempre? E dimmi cosa vedi e dimmi se ci senti Cosa siamo noi? Cosa siamo noi? Se passa il giorno chiuso dentro a una stanza Cosa siamo noi? 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 Sarì Guente Grazie a tutti. Grazie a tutti.